È tempo di lasciarsi alle spalle le delusioni di inizio stagione con tanto di eliminazione dalla Coppa Italia, rimboccarsi le maniche e cominciare a fare sul serio. Domani alle 18 si apre il campionato di Superlega e la Gasseis Buenergi Volley Piacenza ha tutte le intenzioni di recitare un ruolo da protagonista tra le 11 squadre del massimo campionato italiano di pallavolo. I biancorossi scenderanno di nuovo in campo a distanza di qualche giorno al Pala de André contro Ravenna. La società piacentina si presenta a questa sfida con una grande novità. In panchina siederà infatti il neo arrivato Lorenzo Bernardi che ha preso il posto di coach Gardini, esonerato dopo un avvio oltremodo zoppicante. Galvanizzata dalla vittoria di mercoledì scorso in gara 3 che è valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, Ravenna arriva a questa sfida più carica che mai. Scontato come una vittoria per Piacenza possa rappresentare idea di un nuovo inizio, un vero inizio dopo i proclami estivi assolutamente giustificati dovuti all'allestimento di una squadra di campioni, i quali però adesso per davvero non hanno più alcun alibi.